Benvenuti dall'ultimo triangolare qui da Oney Sport City della partita grifone calcio raffinicino Si prova le grifone, bello il disimpegno, poi palla giocata a sinistra, conclusione a giro, parata traversa, stupenda parata Allora può ripartire il fiumicino, palla giocata a destra, un 3 contro 1, conclusione col mancino, alta sopra l'altra traversa Allora prova a ripartire il fiumicino, ma attenta la difesa del grifone E poi conclusione Corner, bello staccata di testa E poi il portiere la prende La riconquista il fiumicino, una posizione pericolosa Palla dietro, a rimorchio, conclusione col mancino Palla riconquista l'agrifone Poteva essere pericoloso il tiro Palla destra Buona ripartenza da parte del fiumicino, poi palla persa E il grifone adesso si trova, 2 contro 1 Stop, conclusione col destro Fuori di poco Punizione pericolosissima per il grifone Bella conclusione, fuori di poco Conclusione sul secondo palo E' riuscito a staccare il centropese del grifone Bella palla a destra, a tu per tu, contro portiere Conclusione della rete dell'1-0 Allo scadere del grifone Allora all'ultimo minuto segna Rossetti Cristian per l'1-0 Per il grifone, bello il mancino Che tocca il palo E poi si insacca Adesso il fiumicino Si trova a dover rincorrere all'ultimo secondo L'1-0 del grifone Che adesso ci riprova Due volte con Rossetti Cristian La palla è uscita ma è finita qua 1-0 per il grifone 2-0